ok ciao daniela allora io ho recintato ho messo ho fatto con delle piante con dei vasi sono abbastanza alti ho fatto un bel recinto stanno belli al fresco ho chiuso il recintato così loro possono stare belli tranquilli e non escono e stanno delimitati qua in quest'area è abbastanza spaziosa si divertono e ora praticamente stanno facendo il riposino perché toto praticamente la rincorsa tanto poverina che si è fuori stancata l'ha seguita in pratica e ora sono tutte e tre qua sotto sono tutte e tre a riposo va bene loro stanno bene quindi stai tranquilla va bene tesoro buon lavoro buona giornata